bene andiamo a vedere come poter renderizzare al meglio questo nostro esercizio per prima cosa dobbiamo vedere la sistemazione l'organizzazione del nostro layer manager il nostro layer manager vediamo che abbiamo creato vari layer tra cui anche quello per le luci e uno per il mesher quello per il mesher è abbastanza interessante poiché io all'interno del mio file oltre ad avere delle luci con delle animazioni sulla timeline che riguardano il colore e l'intensità le luci che vanno a creare sì l'effetto sulle mie geometrie e sui miei materiali posso avere comunque l'effetto dell'esplosione per il PRA che sono comunque i nostri frammenti abbiamo applicato un materiale basilare di colore grigio però abbiamo renderizzato in questo caso sia i frammenti sia il nostro piano con un matte object poiché vogliamo sì che esso vada a nascondere tutti i nostri effetti di layer i nostri effetti di layer sono renderizzati di fatti con delle mascherature come già viste in precedenza per esempio per la polvere per l'effetto di fumo abbiamo utilizzato i materiali che ci siamo salvati precedentemente mentre per il nostro effetto di fumo di finale abbiamo realizzato qualcosa di un pochino più particolare andiamo ad aprire la selezione by name poiché possiamo andare a ricercare il nostro mesher il nostro mesher che praticamente possiamo isolarlo allontanemente andiamo a vedere la creazione il nostro mesher non è nient'altro che il sistema che abbiamo utilizzato per creare l'effetto di fumo di esplosione con una mappatura e adesso infatti al nostro mesher è stato associato il nostro super spray e il super spray naturalmente l'abbiamo detto di non renderizzare le nostre particles in questo modo abbiamo creato questa mesh al quale abbiamo applicato varie tipologie di UV map e un displace in modo tale da creare l'effetto poiché se io lo vado a nascondere vedo che è totalmente piatto invece con il displace posso andare a tirare fuori alcune piccole parti e poi l'uvimap l'uvimap va ad gestire praticamente un materiale composito un materiale composito con un nostro gradiente infatti se noi andiamo a vedere il nostro gradient vediamo che esso va a generare una specie di mascheratura all'interno del nostro sistema che abbiamo utilizzato ma in realtà va a mescolare questi due materiali questi due materiali che non sono nient'altro che un materiale composto da un gradient nel diffuse e lo stesso gradient con delle variazioni nel bump questo per generare l'effetto di fumo quindi per generare le parti più nere abbiamo utilizzato questo materiale mentre per la parte che è inerente la nostra esplosione quindi la parte più bassa abbiamo un materiale con uno specular sull'arancione è una mappa composto da un composite con una mappa di gradiente che è stato modificato all'occorrenza quindi in maniera frattale con cui possiamo regolare al meglio quello che crediamo e sotto abbiamo lo stesso identico gradiente modificato anch'esso all'occorrenza con una scalatura di arancioni e di rossi per poter generare l'effetto di bruciatura se andiamo a realizzare un primo render vediamo di fatti questo effetto all'interno della nostra mappa questo effetto che poi è stato variato nel tempo grazie di fatti all'animazione degli UV map che possono ruotare nel tempo stesso quindi possono andare a generare delle variazioni temporali anche della posizione della nostra mappa oltre a volendo agire sul phase all'interno del nostro noise quindi una volta che poi siamo pronti possiamo renderizzarli naturalmente renderizzando andando a esportare anche i vari layer che ci possono essere di nostro interesse per il compositing inoltre abbiamo anche realizzato dei render a parte con delle particles con un insieme di particles quindi con soltanto dei dettagli in più da aggiungere per poter creare maggiore confusione quando andiamo a importare tutti i vari elementi all'interno di composite vediamo come poterli andare a miscelare tra di loro naturalmente sono molto molto complessa comunque molto lunga la nostra elaborazione abbiamo il nostro diffuse dove abbiamo soltanto le ombre, le luci e i vari detriti che abbiamo renderizzato con sRGB ovviamente e poi abbiamo quello che riguarda il nostro smoke cioè quindi il nostro fumo che ha un CC Basic applicato con una variazione di colorazione abbiamo la possibilità con il mono abbiamo realizzato un mono per poter utilizzare uno sharper in modalità per poter tirare fuori meglio alcuni dettagli e poi li abbiamo comunque utilizzati per ottenere l'effetto di blur tramite motion blur adesso abbiamo applicato ora non si vede bene andiamo a vedere tra le opzioni color ecco qui abbiamo applicato questi render di queste particles che sono delle particles sferiche con una quantità maggiore e con una modalità trails in modo tale che avevamo l'effetto della ricaduta e poi abbiamo quello che riguarda invece la nostra polvere la nostra polvere che partiva dal basso la nostra shockwave la quale anch'essa con sistemi di colorazione di sharper e anche di polvere aggiuntive quindi di particles aggiuntive siamo andati a miscelarla all'interno di essa abbiamo unito il tutto con dei nodi di blend vediamo di fatti come andando a compositare il tutto abbiamo un effetto gradevole questo frame in cui rimane della polvere rialzata all'interno della nostra scena e poi la parte più interessante sicuramente è nella gestione del nostro del nostro smoke del nostro smoke finale di fatti lui esplode abbiamo la possibilità di vederlo nel tempo abbiamo questa esplosione questa generazione avendo importato i vari layer possiamo andare con i vari render pass andare a modificarli abbiamo applicato un cc basic al nostro diffuse per poter tirare fuori meglio la parte del rosso andiamo a vedere com'è costituito e poi esso l'abbiamo utilizzato insieme alla self illumination abbiamo applicato un glow un glow per avere queste parti più marcate abbiamo rimarcato il tutto con un nostro cc basic con il nostro color correction il quale poi è stato blendato su naturalmente un lavoro di fino che è stato fatto per andare a gestire meglio sia le ombre e sia andiamo a vedere i canali sia i canali del diffuse e dello specular in questo caso un minimo di specular c'era per andarli a mescolare tutti con il nostro fun il tutto è stato unito insieme con un blend and comp al quale abbiamo applicato un linear ramp un gradiente verso il basso utilizzando la mappatura la mappa di ZDEP come per nascondere il tutto per nascondere l'effetto il tutto ottenendo questo effetto molto gradevole abbiamo poi applicato il velocity per avere l'effetto di motion blur su di esso e per correggere il tutto abbiamo applicato un altro cc basic volendo si può anche non applicare questo è a discrezione vostra se volete più o meno andare a marcare alcune fasi il tutto poi è stato unito alla nostra composition finale adesso abbiamo applicato e renderizzato anche un fuoco particellare con un P-array con sia la parte di P-array quindi di particles come abbiamo visto nell'esercizio dei tronchetti di legno e sia invece di soltanto delle particles neutrali quindi qui abbiamo soltanto delle spock come della resina per esempio il tutto sono state unite tra di loro per poi essere unite alla composizione finale possiamo applicare un altro cc basic per poter gestire meglio il tutto volendo possiamo cambiare i contrasti e questo è il nostro risultato finale grazie a tutti Grazie a tutti.